la settimana dell'olio a dieste è veramente un'esperienza unica ti tuffi nell'olio ma quello buono lo conosci e lo scopri e soprattutto lo assaggi che vieste sia la città dell'olio l'ho letto che vieste non sia solo mare l'avevo intuito come ti è venuta st'idea e soprattutto complimenti perché siamo alla quinta edizione quindi significa che c'è tanta buona volontà e voglia di crescere l'idea nasce dal far conoscere una vieste che diverse da quella che tutti quanti conoscono e con un gruppo di aziende abbiamo pensato abbiamo messo su diverse cose per arrivare poi a realizzare questa settimana dell'olio che non è solo un evento o ridurla a un evento è forse un po troppo poco è un momento di crescita perché noi stiamo conoscendo in questi anni e quest'anno in modo particolare personaggi che a livello nazionale e internazionale sono apprezzati sono quotati e sono riconosciuti come grandi formatori grandi conoscitori dell'olio l'ovicoltura viestana è un'ovicoltura mediamente avanzata ho trovato una situazione agricola ben delineata con coltivazioni ben fatte e una produzione per la campagna 2021 interessante d'altro canto invece i cegli oli assaggiati all'interno della manifestazione molto probabilmente hanno bisogno di qualche aiuto per essere migliorati l'aiuto può venire da una simbiosi da una collaborazione stretta tra il mondo della produzione e il mondo della trasformazione anche perché a vieste ho avuto modo di osservare ci sono frantoi atti a trasformare bene le olive perché sono dotati di tecnologie mediamente avanzate si stratifica nei secoli su questo territorio di civiltà la cultura dell'olio della produzione delle olive e dalla trasformazione nei frantoni che porta nello stesso piatto contro lo spreco alimentare altri prodotti del territorio all'insegna del buon cibo della nutraceutica e praticamente fu i mangi e adesso andiamo sulle terrazze dell'hotel falcone a degustare e ad apprendere ancora altro sul mondo dell'olio e di vieste pane pomodoro rucola olio extravergine naturalmente di oliva formaggio del gargano formaggi tarallini e natura e alla settimana dell'olio potete trovare niente proprio di meno che le con mare contente guardate in diretta salutano ciao 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 questo percorso in oliveto e nell'olio negli oliveti e nell'olio non voleva essere solamente degustazione non voleva essere solamente far conoscere il mondo ma far far arrivare anche cose che solitamente non si pensano di poter portare in oliveto il concetto oggi lo yoga l'altra mattina un trekking che però abbiamo abbinato ad un oliveto dove all'interno ci sono le necropoli quindi è stato veramente un qualcosa di fantastico abbiamo fatto la dimostrazione di pesca sul trabucco che veramente attira tantissimo è piaciuto tantissimo avete dato spazio ai bambini che sono il futuro e quindi se loro capiscono adesso quanto importante quello che hanno nella propria terra non possiamo che seminare giù esatto e ci sta tutto per il futuro bravo grazie senti da tutti questi nomi puoi dire pure Sandino Caravella ma sai partecipa quest'anno ha partecipato con noi anche Sandino Caravella con Fuglia di Vaisola ma questo mi è piaciuto bravo grazie